Un bambino di 5 anni è morto dopo aver ingoiato una puntina colorata che ha ostruito le sue vie aeree impedendo all'ossigeno di raggiungere il cervello. La tragedia si è verificata nell'ottobre del 2022 al Rottenham General Hospital in Inghilterra e solo recentemente è stata confermata la causa del decesso durante l'inchiesta a Don Caster. Il piccolo aveva inalato la puntina lunga circa 2,5 cm mentre si trovava a casa dello zio. Dopo l'allarme è stato trasportato in ospedale inizialmente reattivo e vigile ma con sintomi di ostruzione delle vie aeree. Nonostante una maschera di ossigeno i medici hanno deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la puntina. Tuttavia durante l'operazione la puntina era rivolta verso l'alto diventando inafferrabile con il forcipe. Le vie aeree del bambino si sono ostruite causando un arresto cardiaco. Due giorni dopo è stato dichiarato il decesso a causa di una grave perdita di ossigeno al cervello.